gutmundson zigzee l'abbiamo affrontata stamattina no questa cosa di di gutmundson e di zigzee bisogna capire anche qual è quello più prendibile tra i due secondo me gutmundson è molto eh più facile da prendere rispetto al zigzee che ha gli occhi addosso di tantissimi club con gutmundson secondo me hai molte più variabili offensive può giocare da attaccante esterno seconda punta non può fare la prima punta ma tranne la prima punta lui davanti può giocare ovunque può giocare trequartista assist tiro gol punizioni eh ha personalità salta l'uomo a me ripeto il giocatore piace tantissimo qual è qual è l'altro diciamo l'altra priorità di questa squadra qual è l'è l'è il centrale difensivo perché a cerbi a trentasei anni va per il trentasette nessuno di noi non facciamo gli ipocriti si immaginava o si poteva immaginare che a cerbi potesse garantire queste prestazioni cari ragazzi nessuno se lo immaginava per quello riguarda De Vrai l'ho definito un difensore da liceo classico liceo classico da noi dai sono tutti quelli con i maglioncino sulla amicina tutti i figli di papà eh eh era questo da noi dicevo classico modo di dire e se allora De Vrai parte un presupposto un difensore che a me piace è un difensore che con conti ha fatto benissimo ma perché 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 De Vrai se gli allora se lo metti in un contesto dove c'è un baricentro basso con accanto un marcatore forte come era Skriniar e con i braccetti che fanno densità che si vanno ad aggiungere centrali quindi difesa a cinque De Vrai è fortissimo perché si sente più sicuro ha un'ottima tecnica di base uscita palla è forte ma se De Vrai lo metti in un sistema di gioco come quello di Zaghi eh duricchia un po' di fatica anche perché anche lui non ha più venticinque anni eh noi giochiamo spesso con il baricentro molto alto e eh gli esterni dell'Inter fanno la doppia fase e non non prediligono la fase difensiva come faceva Conte. Stefan De Vrai nei tre big match eh dove ha giocato li gioca perché fondamentalmente si fa male eh a Cerbi io però voglio essere cinico ma è solo un'analisi ragazzi perché ripeto a me De Vrai alla fine piace secondo me è un'ottima una grande riserva però per farvi capire serve un centrale totalmente diverso da lui serve uno come a Cerbi il gol del momentaneo una zero della Juve se vi ricordate gol è colpa di De Vrai perché non marca nel primo possesso Vlaovic e Vlaovic ha tempo di scaricare la palla va in profondità e De Vrai galleggia rimane nel mezzo tra lui e mi sembra Kostic se non sbaglio lascia libero Vlaovic e fa gol quindi che segna segna e fa gol contro l'Atalanta idem errore sul primo gol poi se non sbaglio fu annullato per fuorigioco ma anche lì fa fa un errore di marcatura importante contro il Lecce lascia solo piccoli che comunque stava per segnare contro l'Atletico Madrid al ritorno secondo me i due gol eh sono da debitare a lui perché il rinvio lui non rinvia in maniera decisa la palla cioè il difensore quando rinvia deve far sì che la palla non sia più giocabile perché si dice mutala in tribuna perché quando rinvia un difensore in aria la palla non deve essere più giocabile lui rinvia in maniera un po' così leggera eh lascia la palla giocabile per l'appunto e eh l'Atletico Madrid ci fa eh il gol dell'uno a uno anche su due a uno se andate a guardare anche lì ci mette uno zampino ripeto De Vrij è un giocatore che a me piace eh se l'hai visto anche contro il Torino Zapata lo ha sofferto tanto parliamoci chiaro ragazzi che Zapata che non è Vinicius lui lo soffre tanto la settimana scorsa non due anni fa quindi lui è un'ottima riserva lo devi far giocare in un contesto dove lo devi proteggere perché è un difensore che va di fioretto gli interventi di De Vrij sono tutti di fioretto puliti bellini esce una palla al piede non è un difensore capito che che fa sentire i tacchetti a all'attaccante e a noi sarebbe un difensore come a Cerbi perché a Cerbi ha trentasei anni va per i trentasette non è un cyborg io ho sempre detto dall'anno scorso che secondo me buongiorno poteva tranquillamente sostituirlo addirittura sono venuto a sapere andate a cercarla che c'è un' intervista da Cerbi su Sky di tre quattro mesi fa dove gli fanno dei nomi di difensori Scalvini se lo te chi è più bravo tra Scalvini altri due tre nomi gli mettono buongiorno e lui dice quello più bravo e buongiorno anche perché è quello che mi assomiglia più di tutti c'è un'intervista di a Cerbi a Sky di tre mesi fa non per dite io sono un fuori classe perché l'anno scorso ti avevo detto che buongiorno era perfetto per l'inter ma a quanto pare se lo dice a Cerbi che sicuramente ha più esperienza di me nel calcio eh ci sarà un motivo quindi per quello il problema qual è l'è che questi giocatori siamo sempre lì e costano questo giocatore che costa buongiorno trentacinque quaranta milioni quindi ti devi frugare nelle tasche come si dice dalle nostre parti perché io ve lo ripeto plennesima volta magari sono stato un po' troppo duro con mio canon nell'altro giorno io ho detto che per ora livello fisico non c'è si deve irrobustire l'Italia dura fatica bisse che è migliorato tantissimo però bisse che non lo vedo ancora titolare nella difesa tre centrale non lo vedo un sostituto di a Cerbi anche perché bisse che deve migliorare tantissimo sul posizionamento è lì che lui pecca a margini sì ha dimostrato di avere margini di miglioramento sì però per assurdo bisse che potrebbe essere anche un giocatore che va in prestito in un inter squattrinata così non andrà mai in prestito ma in un inter dove magari puoi acquistare due difensori buoni potrebbe andare anche in prestito e poi tornare alla base perché sono ragazzi giovani hanno bisogno di giocare però il tedesco deve migliorare tantissimo il posizionamento perché a volte è disattento va fuori timing ha fatto anche dei bene recuperi cioè alle potenzialità ma ad oggi non è pronto secondo me il tedesco bisse che per fare il titolare nell'inter ecco perché serve come il pane un centrale difensivo vecchio stampo come a Cerbi è italiano e ce l'ha il Torino ora te devi andare lì non fare come Bremer perché se no te lo fottono vai lì lo so che 40 milioni 35 per noi sono un'enormità vai lì gli dai un giocatore gli dai un prosciutto gli dai non lo so dagli quello che ti pare ma vai dal Torino e prendi questo benedetto buongiorno perché è il miglior sostituto di a Cerbi buongiorno del Torino è una Cerbi giovane ci becchiamo dopo ciao l'inter l'inter Grazie.